ciao ciao a tutti voi che mi seguite sul mio canale youtube un caro saluto a gruppo whatsapp planet spray art qui sono di ritorno dal workshop che abbiamo tenuto in italia e un saluto in particolare ad erminio adriano e nicolò che hanno partecipato il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi per esempio, o si fai le braccia che vanno giù, dico così, quando si fai le braccia, che era alla fine quello dell'idea di prenderci un altro, no? Vanno giù. Sì, sì, poi tanto anche lì li fanno così di meno. Vado così. Ma se ci vuoi spi ancora? Oppure ci puoi fare le braccia che ci vanno sopra. Vanno così, facciano qualcosa sulla testa, quelle donne che tengono la... Le basi. Esatto, la roba... Quanti succedono? Con le asce, quelle robe lì. Eh, bisogna che portino la frutta in vera, poi bisogna mettere un po' di colore sulla testa. Invece lascia. Invece lascia. Lascia lascia. Invece, invece. Lascia lascia. Lascia-la presidente. Quanti succederak. A di noi lì e invece. Lascia-la too. Lascia-la difficulty. Tu a r strain essere quasi la lì. Esatto. Quanti succederebbe, esatto, è un po' di fascia. Eh, dueрmente la frutta di hiero. A la prima sc otra MOUNO Rosa. Lì, poi dicari. Il nostro corso gratuito A presto 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 A presto